Educare le relazioni andrà avanti senza alcun garante. Il progetto è pensato dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin e volto a combattere maschilismo e violenza di genere nelle scuole. Non avrà Paolo Concia, Suor Moni, Alfieri e Paola Zerman come garanti, lo ha annunciato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Valditara ha spiegato che dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare il carico di garanti del progetto educazione alle relazioni a Suor Moni, Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo il cuore e ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate. Il progetto è educare le relazioni andrà avanti senza alcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti.